Un fine settimana con condizioni di tempo che saranno abbastanza dinamiche sulla nostra regione. Come vedete dall'immagine dal satellite abbiamo un fronte e un successivo che arriverà nella giornata di sabato. Per quanto riguarda quindi le previsioni, sabato avremo cielo in prevalenza coperto sulla nostra regione con possibili debole piogge sparse, deboli nevicate anche in montagna a partire dai 600-700 metri di quota. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, più sostenuta poi in serata e soprattutto nella notte tra sabato e domenica. Le temperature saranno in lieve calo. Per quanto riguarda domenica un deciso miglioramento, l'anticiclone torna a impadronirsi dell'Italia e quindi abbiamo delle correnti settentrionali più secche anche in quota. Bora sulla costa sostenuta, nel corso della giornata poi rimarrà moderata. Temperature in calo, lo zero termico intorno ai 1200 metri di quota, circa temperature massime fra 12 e 14 gradi su pianura e costa. Per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana, lunedì ma anche i giorni successivi avremo bel tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di velature, ancora bora moderata al mattino di lunedì sulla costa, poi venti di brezza. Le temperature caleranno, le minime intorno allo zero, forse anche leggermente sotto, anche in pianura. Temperature massime lunedì intorno ai 15-16 gradi. Saranno poi in aumento soprattutto nella parte centrale della settimana, quando le massime arriveranno anche fino a 20 gradi per poi calare nuovamente in prospettiva verso la fine della settimana. Buon fine settimana a tutti! Grazie! Grazie!